la ciambella alla ricotta facile delicata e di una morbidezza unica in una ciotola metti la ricotta l'uovo e lavora con una frusta aggiungi il latte la farina setacciata l'olio di semi lo zucchero l'estratto di vaniglia e il lievito il sale lavora fino ad avere un composto omogeneo versa in uno stampo per ciambelle ben imburrato del diametro di 24 cm e in forna a 180 gradi per 40-45 minuti e voilà Grazie.